Credo che quello che Padre Alex ci ha detto ci interroghi profondamente e quindi in qualche maniera siamo tenuti non solo ad ascoltare ma anche darci qualche risposta. Abbiamo ancora una mezz'oretta perché qui dobbiamo accompagnare Padre Alex a Davigliana e non vogliamo usare troppo della sua gentilezza e anche del suo fisico che arrivi bene più in parte perché domani lo aspetta un'altra giornata importante. Però una mezz'oretta ce la regala ancora quindi se vogliamo aprire un minimo dialogo qui questa sera chi ha qualche cosa o da chiedere o qualche riflessione da portare all'attenzione di tutti è il benvenuto. Io aggiungo soltanto questo dal nostro punto di vista come comitato che vorremmo portare avanti quella che è la nostra azione nei confronti dell'acqua bene comune e dell'acqua pubblica e quindi invitiamo tutti noi ad essere protagonisti in questo momento di ulteriore riflessione e approfondimento che vogliamo lanciare nei prossimi giorni. Quindi io invito sia coloro che tra noi hanno delle responsabilità istituzionali ma anche tutti i semplici cittadini a richiedere, a voler essere protagonisti di un momento, di una serie di momenti di confronto e di approfondimento perché questa legge va compresa, va difesa e va portata a casa. Quindi quello che noi vogliamo realizzare a chiedere nei prossimi giorni è proprio un tavolo come vogliamo chiamare alcuni momenti ma anche proprio di approfondimento un minimo consentitemi tecnico ciò vogliamo anche capire bene di che cosa stiamo parlando. Non è soltanto una questione così che ci giochiamo a slogan, vorremmo veramente approfondire un pochino. Quindi ci chiediamo anche lo sforzo tutti insieme di andare un po' a guardare che cosa significano una serie di cose, gli articoli della legge che cosa vogliono dire. Voi sapete che sono anni che noi chiediamo l'azienda speciale, l'azienda di diritto pubblico, la trasformazione agismata da SPI in azienda di diritto pubblico. Non vogliamo fare un discorso astratto, vogliamo capire bene, tutti noi abbiamo la consapevolezza ma la volontà precisa che l'acqua rimanga un bene a disposizione di tutti, un bene salvaguardato. Quindi non è che stiamo pensando una trasformazione comunque sia, siamo sicuramente convinti che vogliamo fare delle cose positive per il bene acqua e per il bene di tutti noi ovviamente. Quindi riteniamo però fondamentale uscire un po' da questo schema per cui sempre che la dobbiamo discutere a slovo. No, vorremmo anche approfondire, darci degli argomenti di approfondimento. Quindi vi chiediamo e speriamo di ritrovarci numerosi perché, lo dico onestamente, abbiamo proprio bisogno di essere in tanti a ragionare su queste cose. Quindi nei prossimi giorni vi inviteremo a qualche momento di approfondimento su queste specifiche tematiche la proposta di legge in esame in Parlamento perché questa possa essere sostenuta dai cittadini e dalle istituzioni e anche una valutazione del che cosa significa trasformare SMAT da SPA in azienda di diritto pubblico. E quindi vi chiediamo di esserci nei prossimi giorni. Quindi, fatto questo appello come comitato, rivolgo di nuovo l'invito a tutti coloro che vogliamo passare insieme e sfruttare fino in fondo la presenza di padre Alex per, diciamo, approfondire qualcosa. Ci sono ancora le nostre giovani studenti? Scusa, volevi aggiungere qualcosa? Io sì, volevo aggiungere una cosa a questa, ma io penso che questa sera dovrebbe passare un pezzo di carta in giro dove ognuno che vuole davvero dare una mano al comitato metterci il suo nome, il suo e-mail, il telefono per essere convocati perché altrimenti non usciamo di qui a fuori rimane. Io sarei molto concreto in questa chiedendo chi vuole poter passare una carta in una carta davanti. Grazie del suggerimento. Al tavolo giù in fondo si può fare, anche uscendo, perché c'eravamo un pochino attrezzati, quindi ci sono i due tavolini laggiù, quindi chi vuole lasciare il suo recapito per poter essere contattato e poi approfondire insieme, è il benvenuto. Allora, io volevo chiedere se non penso che ormai sia tardi per cambiare la situazione in modo radicale, nel senso che moltissime persone e sempre di più nel mondo e in Italia stanno diventando sempre più insofferenti sulle tematiche veramente importanti, per esempio anche tra i giovani. Moltissimi non vengono sensibilizzati nel modo giusto, nonostante ci siano campagne o comunque i professori nelle scuole ne parlano. Cioè c'è sempre un atteggiamento non curante nel confronto dell'acqua, ma anche in altri ambiti. Lei cosa ne pensa? Ecco, se vogliamo fare magari qualche domanda così poi vadrà se risponde, diciamo, in maniera un pochino cumulativa. C'è qualcun altro che vuole fare qualche riflessione? Prego. Se volete gentilmente anche presentarvi perché le... così... Sono Rossana Pecarelli e a parte la straordinaria lezione che ho ricevuto stasera è veramente... ti ringrazio perché è difficile ascoltare parole così. Mi pare che in questo momento l'urgenza massima sia concreta e organizzativa. Quindi siccome in sala ci sono le grandi rappresentanti del Movimento dell'Acqua di Torino che naturalmente hanno svolto in questi anni un lavoro straordinario preziosissimo. Alcuni mesi fa hanno organizzato a Torino l'incontro sull'analisi della legge che sarà in discussione in Parlamento, valutandola, come ha detto anche padre Zanotelli, come un elemento assolutamente molto buono. Ma quello che sta succedendo è che da un lato ci potranno essere degli emendamenti molto peggiorativi e dall'altro soprattutto che il voto potrebbe scombinare completamente le attuali maggioranze di governo. Quindi il mio suggerimento in questo momento è avere qualche indicazione su come ci possiamo organizzare sia a livello locale che a livello nazionale perché è evidente che il ritardo culturale che c'è e noi lo sentiamo ad ogni livello perché non se ne parla proprio del problema, sembra quasi veramente l'ultimo problema in agenda, nel momento in cui si comincia ad organizzarci a volte cresce anche la cultura. Qualcun altro? Non siete timidi che questa occasione non si ripresenta, no? Allora abbiamo già detto l'invito per il comitato, la domanda della studentessa come ti chiamo? Maria. 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 Allora Maria dicevano forse è tardi per cambiare, i giovani in particolare ci sono e non ci sono, più gatti non ci sono molto spesso su queste cose. È vero, guarda, bisogna essere realisti, dobbiamo essere realisti a questa livella, ma è chiaro veramente che viviamo un momento difficile. Ecco, qualcuno si domanderà ma perché, ma cos'è che sta cambiando, ma è chiaro, guarda, è inutile che ci prendiamo in giro. Il fatto di questo tipo di società dentro cui viviamo ci ha praticamente addormentati. Tra l'altro, io lo riferirò domani, ma ve lo butto lì così. Guardate che l'informazione è fondamentale in tutto questo, non è solo la televisione. Pensate a quello che sta avvenendo adesso col guarda. Avete notato che nei primi sei, chi sono i più ricchi al mondo? Amazon, bravo, Bezos. Bezos è il primo, poi notate che nei primi sei più ricchi al mondo, quattro sono i giganti del web. I primi sei più ricchi, quattro sono i giganti del web. Vi rendete conto di quello che sta avvenendo? Io ve lo dico semplicemente citandovi un testo che è uscito in questi giorni di nuovi poteri forti. Sentite quello che dice. Gli algoritmi possono semplificarsi la vita, metterci in contatto con compagni elementari che non sentiamo da decenni, consegnarci la spesa sulla porta di casa in poche ore. Molto presto saranno in grado di guidare dell'auto e localizzare i tumori. Ma per fare tutto questo gli algoritmi ci prendono continuamente le misure e decidono al posto nostro. E quando deleghiamo il pensiero agli algoritmi, in realtà lo deleghiamo alle grandi aziende che li controllano. Capite che razza di problema ci sta sotto. E capite come uno dei problemi centrali è proprio il sistema dell'informazione e quello a che cosa conduce poi. Davvero sono loro che ci controllano. Guardate che ormai tante delle lezioni sono loro per le lezioni. Avete visto per Trump, avete visto Borsalare, hanno un'influenza enorme a questo livello. Per cui capite come siamo dentro un sistema che davvero, non so come dire, non solo ci fa tormentare, ma ci toglie quasi la possibilità di ragionare. C'è un altro che ragiona al posto nostro. E capite grazie di problema. Qui dobbiamo cominciare a capire che dobbiamo riprendere la coscienza e cominciare, forse a spegnere un po' la stessa televisione, ma spegnere anche tutti questi aggeggi che abbiamo e cominciare a leggere, cominciamo a confrontarci, a metterci insieme. Notate, il Papa è appena uscito con il documento molto interessante che dobbiamo passare dalla network, cosa chiamava network communities, dell'highline, che invece avere proprie comunità. Cioè, mai come oggi siamo stati connessi e mai come siamo così sconnessi. Penso che la cosa fondamentale oggi per cambiare è il metterci insieme, ragionare, leggere la realtà con i nostri occhi, con gli occhi dei media, leggere per quello che avviene, poi metterci insieme e formare movimenti popolari. Guardate che solo questo può cambiare. E quindi è tutto uno sforzo che ci viene richiesto, soprattutto a voi giovani, ma io ora vi dico ai ragazzi che è importante un po' che incominciano a usare la loro testolina, meno quel chissà, perché è infialmente nel pallone. Quindi davvero qui il pessimismo potrebbe essere, qualcuno dovrebbe essere un sano pessimismo. No, io sono davvero convinto che le cose possono cambiare, ma tocca a noi. Questo è un bel problema, perché noi pensiamo sempre, guardando in su, se dacci tu una mano, no? Lui però punta in gioco e dice voi, per favore, datevi da fare. Cioè, tocca, se i problemi che abbiamo, li abbiamo creati a noi, tocca a noi, uscire fuori. Ecco quello che è. E qui purtroppo, scusatemi, io sono, lo sapete, sono un prete, sono un missionario, sono appassionato al Vangelo, ma vengo nelle chiese un tradimento enorme. Cioè, queste incapacità fanno culto, ma sono incapaci di legare il culto, la fede alla vita, quindi, certamente questo. L'altra cosa importante era quella sulla, quello che faceva la signora, come si chiama? Rossandra. Rossandra. Grazie davvero, molto bello quello che ha detto, chiedendo soprattutto la concretezza, come organizzarsi. Come organizzarsi? Eh, tocca a noi anche qui. Come? I miei suggerimenti sono, prima di tutto, penso che il momento adesso della legge è il momento, quindi, di fare pressione sui partiti. Quindi, chi vuoi, coloro che voi avete votato, e sapete di aver votato, è chiamato in causa. Se avete il telefono, se avete di meo, se avete dicendo, oh, cosa stai facendo? Il chiedendo il controllo sul voto, noi dobbiamo sapere. Una delle cose, perché io mi sono battuto, anche se perdiamo il Parlamento sulla legge, e sarà bello, per me sarà un bel smacco, ma almeno sapremo ognuno, e vuole sapere ognuno dei parlamentari come votato. E quindi è importante anche il controllo parlamentare. guardate che è fondamentale, inutile che noi deleghiamo. La democrazia è una fatta di delega. Guardate, in questo senso noi siamo molto diversi dalle americane. Gli americani cavoli votano un proprio rappresentante, hanno il suo telefono. Qualsiasi cosa che fa in congresso, un marabam, è telefono. Sono migliaia e migliaia di telefonate che le regolino di protesto, oppure di approvazione. Noi questa non c'è da bianca, torniamo a cominciare a riscoprirlo, perché altrimenti non si va da nessuna parte. Quindi il controllo e la pressione sui deputati e sui senatori devono essere controllati in questo periodo, a tutti i livelli, perché è fondamentale che riusciamo. Per fare questo, direi, a livello organizzativo dobbiamo prendere sui sindacati, molto sibillini a questo periodo, perché hanno paura del lavoro, perché poi non è il problema dell'acqua, ma poi i lavoratori che lavorano nell'acqua, c'è tutto. Di fatti hanno fatto anche le audizioni nella commissione ambiente, sono stati molto molto variati, sia CGL come... per cui io sto adesso chiamato anche Landini, la regione di Gocca a favore di... vogliamo sentire da CGL che si schiera, cioè cominciare a chiamare i sindacati in causa su questa roba e quindi prendere a questo livello. L'altra cosa sono le grosse organizzazioni cattoliche, ci hanno dato una grossa mano, per il referendum, che hanno fatto un grosso lavoro anche le parrocchie, hanno lavorato effettivamente, penso che se siamo riusciti ad arrivare a qualcosa è grazie a loro, quindi la richiesta anche a voi che commettono in tanto a tutte le parrocchie di farlo questo, di parlare, parloci in chiesa di questa roba, perché hanno i fedeli, la pomerica, se tutti ci muoviamo le cose poi si muovono. Altra cosa fondamentale, penso, io continuerò a farlo in questi giorni, è che dobbiamo chiedere alla conferenza episcopale di esprimersi, cioè non è concepibile che l'acqua mi scriva queste parole e che all'interno della conferma dei episcopi italiani sia capace di dire una parola su un argomento così fondamentale come l'acqua. Quindi tutto ciò che non è sicuro che ciò che non è sicuro. Altrettanto io penso che chiedere, siccome c'è silenzio davvero, io ho notato un silenzio stampo che fa paura sull'acqua, l'ho detto anche durante l'audizione che ho fatto, dico, per favore, come commissione, perché qualcosa entri, cominci in dibattito, in televisione, eccetera, ma anche a livelli locali, cominciare a chiedere ai giornali, di cominciare a parlare di questo, perché non se ne parla, e se non se ne parla, guardate, non si va da nessuna parte, quindi tutto l'aspetto anche giornalistico secondo me è fondamentale. E poi chiaramente c'è tutto il problema di noi cittadini e anzi in questo senso penso che sarebbe importante anche proprio in vista della legge di vedere anche esperienze. Io ho visto tantissime, pensate, in Campania abbiamo dei comuni che anni e anni che stanno resistendo, per esempio, non hanno consegnato l'acqua alla società qui dove l'hanno consegnata e hanno resistito il proprio con la gestione pubblica dell'acqua. Ricordo Pietemonte, come si chiama, Rocca Piemonte, qualcuno la conosce? Rocca Piemonte? No, è Rocca Piemonte. Rocca Piemonte, infatti ero presente e proprio assistito a questa cosa, hanno invitato in comune quando è arrivato la Cori che gestisce il privato, che gestisce a prendere le chiavi, c'è stata la gente che ha presa delle persone della Cori che questa azia vi ha spattute nelle macchine fuori di qui, li hanno cacciati via proprio. Non sono più orientate, finora hanno ancora in mano l'acqua, la gestiscono loro. Se dobbiamo incominciare dal passo, si parla di disobbedienza civile, ma cavolo, sull'acqua, dobbiamo incominciare a prendere seriamente questa roba delle persone che hanno il coraggio davvero di esporsi. Quindi, vedete, sono tutti metodi organizzativi, se volete, che dobbiamo un po' riprendere tutti insieme. Quello che deve lanciare davvero, guardate che noi non è che parliamo di democrazia, se abbiamo avanti così, davvero di processi democratici. Ecco l'importanza di salate come queste, in cui ci si guarda in faccia, nessuna verità in tasca. Guardate, per favore, se guardate a me come se avesse la verità, ma per carità, ognuno racconta quella, ma anche l'altro prendeva la sua, e insieme cercare qual è la verità e poi andare a delle conclusioni, alla difesa soprattutto di un bene così fondamentale con questo dell'acqua. Quindi, qui si tratta proprio di, e penso che il Comitato e chi aderisce poi al Comitato dovrà un po' varsi da fare in questo periodo proprio in questa strada. Grazie. Grazie. Maria Angela Rosola nel Comitato di Torino per darci un suo saluto, un saluto del Comitato. Grazie. 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 Padre Rosano Telli per averci regalato questa serata veramente straordinaria, che ci rafforza, ci entusiava per andare avanti. Peccato che il Comune, a cui abbiamo chiesto molte volte di adottare una delibera politica di indirizzo per l'acqua bene comune, per la trasformazione della nostra azienda, che è una società per azioni smart, finalizzata a profitto che ne sia stato l'esito referendario, qui purtroppo non siamo riusciti ancora a convincere i nostri amministratori ad andare a fare almeno quest'atto di indirizzo culturale, prima ancora che politico. Siamo riusciti a conquistare una quarantina di comuni della provincia di Torino, che ci sono già pronunciati in questa direzione e direi che senza illuderci troppo, ma insomma forse ci stiamo avvicinando all'obiettivo di Napoli, perché fra un mese l'assemblea dei soci smart, che sono i comuni della provincia, dovremmo evitare un piano di trasformazione dell'azienda in azienda di diritto pubblico. E naturalmente viene fuori la storia dei costi dei benefici, come se tutte le parole che ha detto stasera padre Gianni Pelli non esistessero, facciamo i conti. E noi vorremmo anche che si facessero questi conti, perché quando un'azienda fa un sacco di utili come la nostra azienda, in cinque anni gli utili sono aumentati del 200 al 60%. Come? Aumentando la tariffa del 28%, neanche il gas, neanche l'elettricità è aumentata così tanto negli ultimi cinque anni. Si va presto a far soldi in questo modo, non occorre managerialità. Spremi i soldi delle tasche dei cittadini, li metti in tasca e magari non fai nemmeno tutte le opere che hai detto che avresti voluto fare con quei soldi, perché loro stessi, la smart, che è un'azienda sana, brava, eccetera, che però la stessa azienda riconosce di non riuscire a investire nemmeno tutti i soldi di cui dispone. In un paese in crisi come questa, dove in Italia le pensioni, lo stato sociale e tutto ha i soldi e non riesci a spenderli. Perché? Perché infine è un altro, li devo mettere da parte. Perché la finalità di quell'azienda, essendo una società per azioni, il fine è il lucro, è il profitto. E finché se non cambiano quelle teste, continuerà così. Quindi bisognerà anche vedere che la direzione di questa azienda comincia a cambiare anche idea. Noi stiamo cercando come comitato provinciale, quindi comitato di Chieri è uno dei più vivi, attivi, portiamo anche sul suo aiuto, di mettere in discussione non solo il prodotto che ci viene fornito, come dicono loro, ma il modo in cui il prodotto viene gestito. Come si produce il servizio? Noi abbiamo l'impressione che si viva di reddita, senza pensare a domani, a quel domani che la Venezia Rontelli ci ha così ben prefigurato. Se i cambiamenti climatici, se il risparmamento del pianeta, se lo spreco idrico. Abbiamo fatto delle ricerche, abbiamo denunciato che prevediamo nella provincia di Torino, la nostra azienda prevedeva più il doppio praticamente di quello che ci serve. Il resto viene spettato. Ha detto che non è vero, che abbiamo sbagliato i conti, ma pensate che loro stessi al comune di Chieri hanno anche scritto, perché abbiamo una lettera protocollo che hanno mandato a tutti i comuni, la SMAC stessa, ammette che ogni anno spreda 92 milioni di metri cubi d'acqua. Sono due lavi di di Avigliana svuotati ogni anno. Non ci facciamo parico di queste cose, ma bisogna che, infatti stiamo mettendo in piedi queste iniziative, io dicevo a Rosanna Deparerbi prima cosa facciamo, proprio per mettere in discussione il modo di produrre il servizio, perché fin che si continua in questo modo, potremmo mettere qualche cerotto qui e là, ma la ragione vera per cui l'acqua si spegna, e poi hanno trovato anche il modo di farci pagare anche l'acqua che non consumiamo. per esempio, SMAC aveva previsto negli anni scorsi di vendere un tot di metri cubi d'acqua, un po' la crisi economica che ha diminuito le attività e quindi probabilmente anche fa bisogno d'acqua, un po' la coscienza dei cittadini, che ero chiuso nel rubinetto quando si lavano i denti senza l'acqua, insomma che risparliano l'acqua, e SMAC si è trovata a vendere meno acqua del previsto. E che cosa ha fatto? Grazie poi anche all'autorità nazionale, ha detto, io prevederò di incassare 100, incasso 90 perché voi avete consumato meno acqua, fa niente, paratemela lo stesso. Nelle vostre bollette c'è stato fino all'anno scorso una voce che si chiama conguaglio anche 2012 attraverso il quale in tre anni SMAC si è incassata a 45, 46 milioni di euro, facendoci pagare l'acqua che non abbiamo consumato. Siamo andati in tribunale, il giudice di pace ci ha detto che abbiamo ragione noi, ha detto a SMAC restituisci questi soldi, SMAC ha preso i nostri soldi, paga gli avvocati per fare le cose in tribunale contro di noi, con i nostri soldi. Capite che adesso il tribunale dovrebbe fra un mese, un mese e mezzo pronunciarsi e vediamo un po' come va a venire. Chiudo qui dicendo che la trasformazione dell'azienda nostra in azienda di diritto pubblico è indispensabile perché finché l'azienda è finalizzata a lucro e profitto non ci toglieremo da questa situazione e l'amministratore delle dati, il direttore generale, il presidente devono rispondere a quella finalità, noi dobbiamo dargliene un'altra. La finalità alternativa è quella della gestione del bene comune. Il 23 febbraio saremo a Roma a un'iniziativa nazionale per sostenere la legge, per parlare anche ai giornali qualche volta di queste cose e continueremo naturalmente tutti insieme. E quanto più i cittadini prenderanno in mano la bolletta dell'acqua e andranno a vedere le voci che la compongono, non per fare i tignosi, ma per applicare la legge. La legge dice, Europa e Italia, che la bolletta dell'acqua deve coprire tutti i costi di gestione e di investimento. Quindi noi con la bolletta paghiamo tutto. Non è ammissibile che si facciano 40-50 milioni di profitto oltre a tutto questo, che non ci ritornano nemmeno in un ottimo servizio. Quindi dobbiamo partecipare di più. Dateci una mano per informarsi soprattutto, per capire quali sono i problemi, come dicevano anche loro prima. Più sappiamo, meglio ci difendiamo, ma soprattutto meglio prepariamo l'avvenire per l'ora dopo di noi. Grazie. Applausi Allora, concludiamo proprio partendo da queste osservazioni. Prima di tutto un grazie davvero al Comitato di Torino, ma anche a tutti i comitati per il lavoro che avete fatto. È veramente importante ed è interessante anche che siamo riusciti, la cosa è la prima volta penso in Italia, che siamo riusciti a mantenere, dopo il referendum, nonostante che abbiamo vinto, non abbiamo ottenuto nulla, i comitati hanno continuato a lavorare. Dentro anche un quadro nazionale, abbiamo il forum a Roma, che fa un po' da, 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 neanche portavoce, ma aiuta un po' a venire insieme un po' tutto. Questo è veramente straordinario, di solito ci spacchiamo, meno va per, mentre è stato molto bello questo, quindi un grazie davvero. Allora, io volevo ritornare su alcune cose che sono state dette. Prima cosa, si parlava prima della dispersione dell'acqua, penso che una delle cose fondamentali su cui bisognerà pensare, non c'è tanto gli sprechi che facciamo, sono tanti, ma il problema dell'agricoltura. Buona parte dell'acqua buona, capiamo, la usiamo per l'agricoltura, è giusto? E' chiaro, ma perché non usiamo, per esempio, le acque raffrure? Per l'agricoltura. Ma come facciamo ad usare l'acqua? L'avremo sempre più scarsa questa. Noi stiamo sciopando un sacco di roba, soprattutto l'agricoltura industriale, ma anche va dentro tutto quello che è l'allegamento di polli, di galline. E' incredibile la quantità. Per fare, mi sembra, un tito di carne ci vuole un 9 mila litri d'acqua. Mi capita un po' che razza di... è tutto un problema quello dell'agricoltura grosso. Io penso che dobbiamo lentamente ripensare come usare le acque raffrure, che almeno sono ottimizzabili, a livello agricolo, per esempio. Invece di... perché altrimenti devo sciopare tanto di quella roba e sul risparmio diventa fondamentale. Dobbiamo davvero edutare un po' tutti al risparmio. Seconda cosa importante che usciva era quella del problema dei prezzi sull'acqua, che oggi sono dettati dall'authority. Nella nuova legge, noi, e questo è un altro punto di discorso grosso sulla legge, Noi stiamo chiedendo, invece, che la decisione del costo dell'acqua non venga da RERA, ma venga data dal Ministero dell'Ambiente. Certassi in altre mani. La RERA sappiamo come fa. Guarda, ha gli interessi. Punto e basta. E non è giusto. Cioè, potete tradire tutto quello che preferendo. Questo è entrato anche a questo nella legge. Quindi, guardate che il paese, così com'è, è un po' una bomba esplosiva perché sarà attaccato da tutte le parti, perché mette in discussione tutto un sistema che dobbiamo per forza mettere in discussione se vogliamo obbedire alla volontà del popolo italiano. E' stato chiarissimo il referendum, quindi dobbiamo in questo senso muoverci. Allora, l'altra cosa importante sul Torino, secondo me, se davvero fra qualche giorno si ritroveranno i sindaci a decidere, allora, per favore, penso che voi non venite tutti semplicemente da Chieri venite da vari paesi, cominciate a premere sui vostri sindaci per dirlo cos'è che vai a votare. Se sentono la pressione popolare, cavoli, si cominciano a votare in maniera altra. Quindi diventa fondamentale pressione sui primi cittadini perché sappiano che cosa vanno a votare lì. E quindi, ecco la democrazia, ecco il premere dal basso, è quello che cambia le cose. Quindi è in questo spirito, secondo me, che dobbiamo davvero muoverci. E' un momento, guardate, duro e difficile. Io lo so per tante ragioni. So che tante di noi possiamo anche essere scoraggiati. C'è tanto, non lo teniamo, non è vero. Io sono davvero profondamente convinto, guardate, che la speranza viene da noi. Cioè, io ho questa sensazione forte che mi porto dentro, che le cose uguali abbiamo combinato noi, non c'entra Dio, non c'entra questo mistero che ci sta attorno, chiamatelo come volete voi, ma i problemi sono nostri, li abbiamo creati noi. E quindi dobbiamo risolverci di noi. Il problema è che siamo davanti adesso davvero a due precipizi spaventosi. Uno è chiaramente quello dell'atomico. Guardate che, datevi l'eser di l'anno, la conferenza stampa di Putin a fine anno, dice che siamo prossimi a una guerra nucleare. Guardate che arriveranno tra poco in Italia, quei missili contro cui abbiamo tanto combattuto missili atomici, comis, sentito che andranno tutti, abbiamo già firmato per questa roba. Gli Stati Uniti è uscito dal Trattato I, dell'87, la Russia, adesso accettando le persone di Stati Uniti, ci riusciamo anche noi, e capite un po' che razza di situazione. Guardate che la situazione nucleare è davvero brutta. Questo è un labisso che ci attende. E voi sapete che abbiamo almeno 20.000 bombe atomiche, eh? Su questo possiamo far saltare il pianeta per aria. Cioè l'uomo è diventato Dio. Quello, ricordiamoci quello che diceva Oppenheimer, quando è uno dei che ha creato la bomba atomica al Manhattan Experiment, era presente quando l'ha visto e ha detto Oggi la scienza ha conosciuto il peccato. La scienza non è lo certo. Si vende sempre, come ci vendiamo tutti. E quindi capite che razza di potere, questo è un pericolo enorme. L'altro pericolo è quello del suo riscattamento. Guardate che se andiamo avanti così, il pianeta sopporterà sempre di meno la presenza di Homo Sapiens. che purtroppo sono 100.000 anni che camminiamo su questo, come Homo Sapiens, non un mini di Homo Sapiens, nei 100, forse 200.000 anni, e siamo arrivati al piqui anche su questo. Se noi andiamo avanti con questo tipo e stile di vita, guardate che lo sta facendo il 10% del mondo questo, e non solo i poveri del mondo. Siamo noi, paesi ricchi, che stanno complicando questo disastro. Guardate che possiamo arrivare al punto in cui il pianeta non sopporterà più Homo Sapiens che purtroppo per me è diventato Homo Demens. Siamo demenziali, siamo impazziti. Ecco perché c'è un momento di un ripensamento come dicevo ai ragazzi, alle due ragazze staschie, la barriera e la compagna, di cominciare a capire che siamo entrati, è follia la nostra e dobbiamo cominciare a tornare a ragionare con i piedi da terra e a vedere come uscirne fuori dal problema. Penso che l'acqua potrebbe costituire davvero il primo segnale di una grande se otteniamo questa vittoria e qualcosa sta cambiando. Tocca a noi. Buon lavoro a tutti voi. Bene, con queste ultime parole di Padre Aras penso che lo possiamo ringraziare tutti insieme del tempo che ci ha regalato e delle riflessioni che ci ha portato. Io vi chiedo veramente come comitato, come unione di tutte le persone di buona volontà di lavorare per informarsi perché le cose che sono state dette qui stasera e anche i numeri che sono stati dati per esempio sono numeri disponibili, sono numeri che arrivano dai bilanci di smart, per esempio quelle che faceva il riferimento Maria Angela, non sono numeri che cascano dal cielo. Noi abbiamo bisogno di sapere, di sapere e quindi poi di capire e quindi poi di agire. quindi se volete lasciateci davvero la vostra mail con molti di voi ci conosciamo facciamo già cose però lasciate la vostra mail in maniera che possiamo davvero ritrovarci numerosi a proseguire questo cammino e cercare di portare a casa questo risultato. io vi saluterei ringraziando ancora padre Alex con quello che lui ha scritto nel suo appello che trovate sempre in fondo alla sala diamoci da fare perché vinca la vita. Buonasera a tutti.